Siracusa è una città da terzo mondo. La città di Siracusa, già capitale dell'Occidente, già opulenta, ricca e bellissima città, così come appariva a Cicerone dopo tanti anni che aveva perso la propria libertà a causa dell'occupazione romana, oggi è ridotta in condizioni vergognose con un'amministrazione comunale disattente e incapace di risolvere i problemi dei cittadini. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio Lota, Mauro Basile e Salvatore Castagnino. Quella che vedete è una foto che si riferisce a Viale a Cradina, una delle strade più trafficate e anche più signorile della nostra città, tant'è vero che si chiama Viale. Come è possibile notare un cratere si è aperto nella strada ma l'amministrazione comunale ha pensato bene di metterla in sicurezza riciclando un fusto già usato di fernice e un nastro che dovrebbe segnalare il pericolo. Ma è possibile immaginare che nella città che si vorrebbe candidare capitale della cultura europea continuino ad essere utilizzati i fusti di vernice per segnalare pericolo e così come avviene nei paesi dell'ex blocco sovietico? In effetti una certa similitudine politica ci potrebbe essere tra l'amministrazione comunale di Siracusa e gli ex paesi del blocco sovietico, anche loro eredi del PD come all'est e eredi del Partito Comunista. Del resto lo stesso sindaco in un'intervista rilasciata a un'importante emittente radiofonica ha candidamente dichiarato che non è il compito suo occuparsi delle strade. Forse delle strade ci dovremmo occupare noi dell'opposizione? Pertanto nel segnalare questo ulteriore pericolo per i cittadini, hanno concluso Vinciulla, Loto, Basile e Castagnino, nell'invitare a togliere immediatamente questa vergogna del fusto di vernice posizionato al centro della strada vorremmo capire cosa succederebbe se a farlo fosse un privato. Invitiamo il corpo di Polizia Municipale della città di Siracusa a occuparsi della vicenda dal momento che prendiamo atto che il sindaco ritiene che non sia competenza sua a occuparsi della sicurezza della strada.